Prendiamo alto delle dimissioni presentate dai nuovi consiglieri facendo parte del Consiglio Comunale di 15, ma questo è anche il momento dei ringraziamenti. Il ringraziamento va in particolar modo alle forze dell'ordine che ci hanno sostenuto in questi lunghi dieci anni, ai magistrati antimafia che hanno permesso di ripristinare la legalità in un territorio molto difficile, agli amici di Libera con Marco Cillo che si sono interessati direttamente di questioni di grande importanza e che hanno permesso di trasformare i santuari di morte in opere a servizio della comunità. Noi in cinque anni abbiamo subito parecchi attacchi da parte di Liberato San Danilo, oggi è un atto dovuto e prettamente politico per assegnare le dimissioni dai consiglieri comunali perché è venuta meno l'agibilità democratica, cioè Liberato San Danilo non ha più una maggioranza in consiglio, si è visto nell'ultimo consiglio comunale in cui in seconda convocazione eravamo le seglie, solo io e il consigliere Scala Angele.